Polizia di Stato, un'altra importante attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. La questura di Biella tratte un arresto nel pomeriggio di lunedì un cittadino marocchino ed una cittadina italiana per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La coppia, alloggiata in una stanza di un albergo del centro cittadino, è stata trovata in possesso di circa 70 grammi di eroina, 30 grammi di cocaina e 26 grammi di hashish, pronti per essere ceduti e la somma di circa 10.000 euro in contanti. Alla luce di tali rinvenimenti, i due sono stati tratti in arresto in concorso per il reato di traffico di sostanze stupefacenti ed associati, rispettivamente presso la casa circondariale di Biella e di Vercelli, a disposizione dell'attività giudiziaria competente che ha disposto all'esito del giudizio di convalita le misure cautelari per l'uomo del divieto di dimora e per la donna dell'obbligo di dimora nella città di residenza.